Raffaele Cattaneo che a Pavia oggi rappresenta il Consiglio regionale di Regione Lombardia, 30 km dividono Milano a serie di Regione Lombardia a Pavia, ma non è soltanto una vicinanza geografica, diciamo. No, certo, anzi, le ragioni che legano Pavia a Milano e a tutta la Lombardia la rendono una delle città protagoniste della nostra regione e sono moltissime. Il senso della presenza qui oggi mia, ma anche di tutti i consigli regionali eletti nel territorio, è proprio quello di poter toccare con mano, da un lato, le tante qualità di questo territorio e dall'altro anche le domande, le istanze che da questo territorio vengono alla Regione Lombardia. Quindi in molti incontri che faremo nel corso della giornata, compreso questo importantissimo qui nel Palazzo del Comune di Pavia, con il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, con altri esponenti dell'amministrazione, hanno lo scopo di rappresentare la volontà del Consiglio regionale di venire sul territorio, ma anche quella di poter consentire ai vostri rappresentanti di dire direttamente al Consiglio regionale quali sono le priorità e lo abbiamo fatto con grande efficacia. I nostri rappresentanti, Sindaco Alessandro Gattaneo. Sì, io ringrazio per questa testimonianza di vicinanza nei fatti e anche nella possibilità di dialogare direttamente. Non è cosa scontata, non è una formalità. Abbiamo parlato dei temi cari a Pavia, il tema del lavoro in primis, il tema delle vocazioni di questa città, università e sanità, i temi di urgenza che abbiamo sul tavolo, l'edilizia popolare e l'edilizia scolastica. Avere l'occasione di farlo con le massime autorità del Consiglio regionale e anche con la presenza dei Consigli regionali del territorio e l'assessore Menazzini è stata un'occasione importante per Pavia.